Ferie solidali all'ARPA, la società del trasporto pubblico abruzzese. Ogni lavoratore potrà donare fino a un massimo di tre giornate ai colleghi malati in difficoltà, nessun onere a carico dell'azienda. Secondo l'accordo sottoscritto con i sindacati, ogni dipendente potrà attingere a quella parte di ferie, cinque per ogni anno riconducibili all'istituto contrattuale delle festività soppresse. Già attivi in Francia, dove hanno dato risultati lusinghieri, in Italia le ferie solidali non sono ancora operative, se ne parla nel cosiddetto Jobs Act del governo, un provvedimento analogo a quello dell'ARPA è stato adottato anche in alcune aziende del trasporto pubblico della Toscana.